Proseguono i nostri appuntamenti con l'ADOC Puglia sulle tematiche, sulle problematiche che vengono affrontate dall'ADOC stessa. Quest'oggi parliamo dello strumento dell'Istituto della Mediazione e ne parliamo con l'Avvocato Giulia Procino dell'ADOC Puglia. La mediazione come strumento stragiudiziale della controversia è stata introdotta dopo una serie di contestazioni definitivamente con la legge 98 del 2013. E' uno strumento da un certo punto di vista rivoluzionario nel senso che tende ad evitare che le contestazioni che sorgano tra le parti vengano portate all'attenzione di un giudice. La legge 98 del 2013 ha introdotto una serie di materie che sono ritenute obbligatorie, cioè questo vuol dire che prima di intentare qualsivoglia giudizio si deve necessariamente adire la conciliazione. La UIL che è attenta sempre alle problematiche che riguardano la cittadinanza in generale ha istituito presso la propria struttura un organismo di conciliazione che ha deciso di chiamare Arcadia Concilia. L'ADOC ovviamente in occasione di tutte le contestazioni che vengono poste anche proprio direttamente dai consumatori si rivolge all'organismo di conciliazione Arcadia per tentare appunto di risolvere tutte le contestazioni senza rivolgersi ad un giudice così come consuetudine e costume della nostra associazione. La domanda viene presentata attraverso un formulario che si trova anche su internet, infatti chiunque sia interessato dopo aver fatto il reclamo può presentare questa domanda sul sito Arcadia Concilia o essere depositata direttamente presso la sede della UIL. Sarà quindi fissata un'audienza dalla segreteria dell'organismo di conciliazione. In occasione di quest'udienza le parti con i propri avvocati di fiducia si cercheranno di trovare una soluzione. Saranno ovviamente assistiti da un mediatore che è un soggetto terzo ed imparziale che avrà lo scopo di tentare di trovare una soluzione, tentare di mettere d'accordo le parti. Nell'ipotesi in cui si riesca a raggiungere un accordo ci sarà appunto un verbale positivo, quindi un verbale di accordo. Diversamente sarà stilato un verbale di mancato accordo che sarà appunto firmato dalle parti.